Dunque anche gli abitanti di Metaurilia, ieri sera è stata presentata la lista degli interventi che l'amministrazione comunale aveva redatto per proporli poi a Terna, sono le opere compensative all'Adriatic Link. Assessore Manocchi, quel elenco che lei ha presentato è stato integrato notevolmente? Sì, direi che più che integrato è stato assolutamente quasi ristilato e abbiamo quindi la messa in sicurezza della strada statale adriatica a Metaurilia con la realizzazione di due rotatorie. I cittadini hanno chiesto la rotatoria ulteriore che era prevista come da piano regolatore che venga realizzata a Tombaccia nell'intersezione che va dalla strada provinciale, quindi via della Tombaccia, con l'intersezione a strada della Cerasa, località Metaurilia. Con la sistemazione sempre nell'area dei fossi, la realizzazione di una pista ciclopedonale barra marciapiede, questa amministrazione ha molto a cuore le piste ciclopedonali e quindi laddove ci sono la possibilità di intervenire in questo senso noi lo facciamo di buon grado. Poi abbiamo la predisposizione dell'allaccio della funiatura nelle intersezioni di passaggio dei cavi in località Metaurilia, questo sarà a carico di ASET e vi compresa la illuminazione, la messa in sicurezza della strada statale 16, tratto Metaurilia, strada Ponte Alto, incrucio della Cuppa, via della Tomba, strada camminata e strada di mezzo e realizzazione di una pista ciclopedonale e di collegamento con la strada statale. Il rifacimento della rete fognaria delle acque piovane a Metaurilia. Anche ieri sera è emerso la necessità di cambiare la pendenza del sottopasso a Metaurilia, anche per l'accesso per i disabili ad esempio. La bretella di collegamento quartiere di ambaccia ciclopedonale interna alla frazione e poi abbiamo una serie di richieste relative a autovelox o tutor, segnaletica, quindi servizi di isole ecologiche, parcheggi, l'assistimazione di fossi, giardini e la piazza in località Metaurilia, l'assistimazione dell'immobile Ecomuseo. Quindi diciamo la lista si è indubbiamente molto arricchita, ma nasce dalla concertazione, dal confronto con i cittadini. Pertanto io ho detto e ribadisco che queste opere verranno realizzate nei prossimi anni, perché Terna anticiperà il 75% dei 12 milioni, quindi comunque un'anticipazione da parte del Comune di Fano importante. È chiaro che tutte le opere che abbiamo elencato superano i 12 milioni, ma non vogliamo precluderci l'opportunità di questo finanziamento e ci impegniamo come amministrazione comunale a finanziare tutte le opere inserite all'interno di questo protocollo. Quindi una parte saranno finanziati con i fondi di Terna, una parte se ove non basteranno da parte dell'amministrazione comunale. Un'attenzione particolare che riserviamo a delle periferie della nostra città, molto spesso trascurate. Sono investimenti importanti che da qui ai prossimi anni vedranno finalmente il compimento.